Tutti noi in questi giorni ci rechiamo al cimitero per rendere omaggio e salutare i familiari e amici che sono venuti a mancare. Fin da bambini abbiamo visto i nostri familiari affacendarsi fra crisantemi, lumini, preghiere e portati per mano al cimitero affollatissimo a fare visita ai multiceddi, gli stessi che portavano i doni in giocattolo ai più piccoli. Il 2 novembre è un giorno di festa nonostante possa apparire triste, un giorno in cui per chi crede si prega per le anime dei cari con la speranza di poter abbracciare un giorno nuovamente i propri morti. Il cimitero per l'occasione della commemorazione dei defunti sicuramente è tirato all'ustro. Assolutamente sì è tirato all'ustro però ci tenevo a dire che il nostro cimitero è sempre tirato all'ustro perché questa amministrazione sin dal suo insediamento effetto a delle operazioni di pulizia grazie al servizio di igiene urbana quotidianamente, inoltre effetto a dei servizi a cadenza bimestrale di scerbatura meccanica e di serbo chimico. Quindi noi prestiamo molta attenzione ai nostri cari defunti che riposano nel nostro cimitero. Inoltre volevo anche attenzionare il fatto che grazie all'assessore Faraci che si occupa della manutenzione straordinaria della nostra città abbiamo effettuato tutto un servizio di potatura molto più importante, non quello ordinario, all'esterno e all'interno del cimitero. Una sinergia con gli uffici legata anche al fatto, come ben sappiamo, che la strada che porta da via Scalorino all'ingresso del nostro cimitero è di competenza della provincia. Quindi grazie a una sinergia con il commissario provinciale abbiamo provveduto a pulire la strada che ci porta al cimitero e grazie ad una collaborazione intensa avuta anche con l'amministrazione comunale di Siracusa abbiamo bonificato tutta l'area esterna al cimitero. Gli orari di entrata, uscita, ci illustri un pochino anche per quanto riguarda la viabilità. Per quanto riguarda questa tre giorni, questa settimana legata alla commemorazione dei defunti abbiamo il pieno supporto da parte dei vigili urbani che andrà a regolamentare tutta la viabilità attorno al cimitero. Il nostro ufficio tecnico ha messo a disposizione i propri impiegati affinché venga svolto nelle giornate di giorno 1 e 2 il servizio di bus navetta per i nostri anziani. Questi bus navetta saranno due, inizieranno giorno 1 e giorno 2 a partire dalle 7.45 fino alle 13 e dalle 15 alle 18. Nei giorni di 31, 1 e 2 novembre faremo un orario continuato dalle 8 alle 18. Vorrei approfittare per farle qualche domanda riguardo l'assegnazione dei loculi. Abbiamo già ultimato i lavori e sono in fase di assegnazione. Ulteriori altri loculi stiamo facendo un bando affinché vengono assegnati dei nuovi loculi, da qui a un mese penso. I cittadini cosa devono fare nel frattempo se hanno necessità? Possono tranquillamente recarsi al primo piano dell'ufficio comunale, presso i servizi cimiteriali e lì qualsiasi chiarimento vogliono sapere ci sono le persone dedicate al servizio che daranno tutte le risposte del caso. Lungo i viali interni del cimitero catturano la nostra attenzione cappelle e tombe nobiliari dal sicuro valore architettonico ed artistico. Lungo il viale principale detto degli uomini illustri riposano uomini e famiglie che hanno fatto la storia di Floridia. Il viale degli illustri perché sono state tumulate delle persone che per il paese avevano una certa posizione politica che è tipo dottori, gente disegnata dal potestà. Stiamo parlando... Le tombe di sacerdoti... C'è la tomba di padre Columba, poi c'è la famiglia... Padre Columba, ricordiamolo, il padre... Il parroco della chiesa madre di Floridia, per tanti anni lui è stato... Diciamo... In filasso, la gente, molte persone si affacciavano a loro, specialmente quelle più indigenti. Comunque, un'ottima persona e un ottimo parroco. Padre Di Stefano, padre Columba e padre Giacinto. Ecco, padre Giacinto che si trova qua in Anzacofago vicino a prossimità della chiesa. Invece padre Loterzo, che è l'ultimo parroco che è scomparso della chiesa madre, invece lei mi diceva che non è sepolto a Floridia. A Bucchiere, a Bucchiere, nella città di nascita. Qui in fondo al viale degli illustri abbiamo una chiesa, la chiesa del cimitero di Floridia. Sì, è una chiesa a tutte le fette consagrate, dove si fanno le messe. In occasione della ricordazione dei fondi c'è appunto una messa. Il 2 novembre è anche la festa dei fiori, che hanno significati ben precisi. I crisantemi sono il simbolo della spiritualità. Nella solenne commemorazione dei defunti rappresentano il segno felice dell'immortalità dell'anima.